Per noi all'interno del gruppo Brevini Power Transmission l'importanza della pianificazione finanziaria è diventata sempre più fondamentale negli ultimi anni per poter mantenere e garantire l'equilibrio finanziario, la sostenibilità finanziaria di un piano di investimenti legato allo sviluppo del business. Quindi abbiamo necessità di avere uno strumento che permetta di dare affidabilità nella costruzione di questa pianificazione e la possibilità di controllare se i risultati sono quelli disegnati a livello di questa pianificazione per poi impostare azioni correttive, retarare gli investimenti e comunque sempre tenere sotto controllo questo equilibrio finanziario e la sostenibilità dell'azienda su un periodo medio-lungo. Grazie